L'emergenza sanitaria sta condizionando l'intera filiera agroalimentare. I ristoranti, ad esempio, perdono sei clienti su dieci a causa delle nuove limitazioni di orario imposte dal governo. È quanto emerge da un'analisi di col diretti. A rischio ci sono migliaia di posti di lavoro, ha affermato il presidente regionale dell'Associazione, David Granieri, che prosegue. Sono indispensabili misure come il taglio dei costi, con la decontribuzione protratta anche per le prossime scadenze. Un altro settore fortemente penalizzato dal lockdown è quello degli agriturismi, che conta nel Lazio 1.280 aziende e 15.000 posti letto. Servono finanziamenti a fondo perduto che possano aiutare ad incentivare l'utilizzo del made in Italy. La Pisana ha recentemente approvato il bonus, che prevede il 30% di rimborso a chi compra prodotti agroalimentari locali. È questa la strada da proseguire. Un'altra conseguenza negativa è relativa al calo dell'export a causa del lockdown in Germania. Per fronteggiare gli effetti della pandemia vanno aiutate le imprese a superare questo difficile momento e va preparata la ripresa con un piano straordinario di internalizzazione, con la creazione di nuovi canali e una massiccia campagna di comunicazione per le produzioni nostrane. Intanto il governo sta lavorando ad un decreto RistoriBis, che stanzierà ulteriori aiuti ai commercianti, ristoratori e partite IVA, modulandoli in base alle restrizioni previste dal nuovo DPCM.